Allumni Matematica è una giovane associazione non profit impegnata nella ricerca scientifica indipendente e nella divulgazione delle scienze matematiche. Mancava un qualcosa che facesse da ponte tra il mondo universitario e il lavoro. Pensiamo a come sarà il mondo del domani e a renderlo migliore con la scienza. Improve the world!